Continuano le segnalazioni a Rossini TV di scriteriati abbandoni di rifiuti. L'ultimo arriva da strada San Lorenzo, tracciato sterrato che dalla trafficata area industriale di strada Montefeltro si inerpica in collina in un percorso fra aree agricole. Qui sono stati abbandonati una decina di pneumatici malcelati da un cespuglio a pochi metri da campi coltivati e da un maneggio. Un abbandono censurabile non solo per mancato senso civico ma anche per l'impatto inquinante che può determinare. Va ricordato che gli pneumatici di provenienza domestica sono rifiuti che non possono essere conferiti nei normali cassonetti ma vanno portati al centro di raccolta rifiuti di marche multiservizi o in alternativa possono essere ritirati gratuitamente a domicilio. Ricordiamo il numero whatsapp per le segnalazioni a Rossini TV 370 366 7210.